Lasciato il Serengeti stiamo visitando il Taranghire National Park ed attraversando la savana incontrammo questa coppia di leoni innamorati lui lo chiamammo Simba così come i Masai chiamano i leoni e lei la bella lei comincia a fare la vezzosa e acchiappa le mosche innamorati Adesso lui ruggisce e lei continua a fare la vezzosa. Poi si addormenta profondamente. E' il periodo perché se lei resta grave e alla fine della stagione delle piogge partorisce. Sì. Sì. Grazie a tutti. Lei segue da dormire profondamente e dopo un po' si risveglia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E poi dopo una quindicina di minuti si ripetono. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.